Per la terza volta nella sua carriera Tiberio Mitri tenta la scalata all'europeo dei Medi che fugge a suo. Una delle tappe è questo incontro con l'inglese Maceteo. La terza volta nella sua carriera Dura e faticosa la vittoria di Tiberio Mitri ed è per primo il suo avversario a felicitarlo con realtà sportiva. Poi il triestino confiderà ai microfoni le sue speranze.